Nome? Melania. Cesare. Cognome? Corradini. Maestri. Età? 31 anni. 24 anni. Sport praticato? Sci alpino. Corsa in montagna. Soprannome? Melli. In nazionale mi chiamano Cucciolo, per il mio carattere. Spesso la gente scherza sul mio nome, Cesare Maestri, quindi come il grande alpinista, ma vi dico a tutti che non c'entro niente con lui, lo conosco e basta. Conciliare lavoro, studio e sport. È complicato trovare il tempo per allenarsi? Sicuramente è una cosa impegnativa. Sicuramente cercherò di farci stare tutto al meglio. Accetti la nostra sfida? Di al contrario il festival dello sport in 10 secondi. Tro...ps... led... Tro...ps... la... vi... la... 3... 2... 1... La... niente. La facciamo pari e patta? Quante farfalle contiene questo vaso? 200... 230. 150. Ottimo lavoro, Melania! Hai vinto! Lo sai che il record sarà il tema della prima edizione del Festival dello Sport, che si svolgerà a Trento dall'11 al 14 ottobre? Non lo sapevo. Comunque, mi informerò. Sì. Qual è il record che vorresti battere? Ma il record che volevo battere è sempre stato quello di vincere una medaglia d'oro alle Olimpiadi, alle Paralimpiadi. Vediamo. essere il primo atleta trentino a partecipare alle Olimpiadi nella corsa in montagna. È un record e un sogno. Ora, fai una faccia da record, postala sui tuoi canali social e tagga il Festival dello Sport. Grazie ragazzi, ci vediamo al Festival dello Sport.